Abbiamo allontanato alcune squadre di scout che stavano sostando in questi territori in maniera un po' pericolosamente vicino al fuoco e cerchiamo di essere di sostegno in tutto, attraverso anche quella che è la nostra esperienza pregressa in materia di incendio boschivo. Naturalmente non possiamo che non preoccuparci della salvaguardia di questa che è l'area protetta e di una specie particolarmente rara che è la genista pulchella subspecie aquilana che è una specie endemica puntiforme la cui popolazione è seriamente minacciata e che ha un unicum qui al mondo oltre che proseguire nella nostra attività di indagine sulla quale c'è massimo riservo ma che continua a essere svolta con grande impegno.